Tutto l'ufficio ragioneria, tutti i dirigenti ed alcuni funzionari del comune di Andria sono da ieri precettati fine settimana di lavoro per arrivare entro domenica alla chiusura dei conti per presentare il piano di riequilibrio. Sono ore intense negli uffici comunali di Andria per arrivare a presentare quel piano di predisesto che dovrebbe consentire all'ente di accedere al fondo rotativo una sorta di mutuo per ripianare i debiti. La scadenza è fissata al 27 novembre. Anche se qualcuno cavilla, sostenendo che si possa usufruire di qualche giorno in più, dubitiamo che questa volta l'amministrazione comunale voglia correre il rischio di superare i termini per la presentazione del piano e rischiare una bocciatura che, portando il comune in dissesto, potrebbe avere ripercussioni persino sui consiglieri comunali. L'elaborazione del piano è stata ed è ancora in redazione sotto la supervisione del professor Andrea Ziruolo, consulenza che costerà circa 4.000 euro al comune. I tempi sono quindi serrati. La delibera entro il fine settimana per passare tra lunedì e martedì dai revisori dei conti, poi dalla commissione consigliare e approdare per l'approvazione in un consiglio comunale che quasi certamente dovrà essere convocato in via d'urgenza. Fornitori, servizi, utenze, dall'adesione al piano di riequilibrio ad oggi, e non è ben chiaro ancora per quanto, le spese del comune sono in una fase di incertezza che sparge nervosismo. Se gli operatori della Sangalli sono stati convocati dalle sigle sindacali nei giorni scorsi per essere messi al corrente delle criticità economiche aziendali, sono invece mesi che i dipendenti della ASA, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico nella città di Andrea, ricevono in ritardo lo stipendio. Una situazione che finora è rimasta tra le mura della sede aziendale, ma che comincia ad agitare gli animi dei dipendenti, che a questo punto meditano azioni di protesta. Una eventualità da scongiurare assolutamente, perché le loro prestazioni sono al servizio delle fasce più deboli della popolazione, anziani su tutti. Uno stop del servizio di trasporto potrebbe avere effetti clamorosi.